perché quando parliamo di risultati pensiamo ai soldi questo è l'errore questo è l'errore enorme cioè ernesto mi voleva dire una persona che non vede i soldi come può rimanere motivata ma cazzi i soldi sono la conseguenza questo è il nostro lavoro di guida ma se ci pensate la stessa cosa che dobbiamo fare da genitori noi da genitori cosa dobbiamo fare con i nostri figli dove fargli capire che prima ci sono i valori e poi ci sono i soldi cosa dobbiamo fare nel nostro nella nostra rete con i nostri collaboratori devo far capire che i soldi sono la conseguenza se lavori bene i soldi arrivano se impari a fare attività e soldi arrivano meno male che non arrivano subito poi siamo d'accordo che si arriva qualche centinaia di euro sono conferme entusiasmo viviamo tutti di conferme non c'è niente che motivi di più delle conferme per gli esseri umani abbiamo bisogno di questo ci torno qua cioè tutti noi nella vita abbiamo bisogno di avere i risultati solo che per avere i risultati bisogna fare e cazzo e quando per fare devi avere l'autostima alta solo che l'autostima è una conseguenza dei risultati e questo diventa spessissimo un circo vizioso un circolo vizioso noi dobbiamo partire da questo presupposto i risultati sono la conseguenza l'autostima è una conseguenza l'unica cosa che noi possiamo controllare sono le azioni per cui ernesto quando noi parliamo di risultati dobbiamo sganciarci dei soldi e dobbiamo invece far percepire un altro tipo di risultato che è importantissimo oggi la crescita il miglioramento allora tutti voi prima avete risposto siete qua da almeno un anno due anni sinceramente proprio mano mano in nella bocca della verità chi di voi può dire che in quest'anno è migliorato come persona prima che come professionista e chi di voi è migliorato ha imparato cose nuove è in un contesto stimolante chi di voi può serenamente dire che avete guadagnato meno di quello che pensavate in questo anno benissimo siete fortunati perché quelli che hanno guadagnato di più di quello che pensavano stasera non sono venuti sono troppi intelligenti per venire a fare un corso e chi di voi però può tranquillamente chi di voi può serenamente affermare che nonostante non avete guadagnato quanto pensavate quello che avete ottenuto come crescita ne valsa la pena se non sareste qui cazzo ma parliamo di questo parliamo di questo i soldi sono una delle cose importanti non è l'unica cosa ho fatto un post su questo vado a memoria direi il 14 15 luglio andatelo prendere su facebook su instagram perché uno dei grandi temi oggi nel mondo del lavoro perché non troviamo o non si trovano persone che vanno a lavorare a fare anche i lavori più umili o due attività economiche ma nei ristoranti facciamo fatica a trovare i camerieri ormai a 2000 euro al mese perché purtroppo il messaggio che è passato è che si lavora per i soldi ma non è vero non è vero si lavora anche per i soldi ma si lavora per soddisfazione si lavora per miglioramento se lavora perché si fa parte di un team si lavora perché rimaniamo vivi lavorando si lavora perché abbiamo bisogno di sentirci utili si lavora perché abbiamo bisogno di una dignità vogliano dire che cosa facciamo se no diventa solo una questione di soldi ma ve l'ho detto prima io non sono qua non vi sono d'aiuto chi è qua per questa attività e ce ne sono tanti che fanno network per soldi ma ve lo giuro io ho conosciuto un sacco di gente talmente povera che tutto quello che aveva i soldi non vi servirà un cazzo fare i soldi con questa attività non il network la roba più bella di questa attività è lavorare con le persone vederle crescere migliorare fare i progressi vedere che si cagavano addosso a fare una chiamata e la fanno che si cagavano addosso a fare un appuntamento lo fanno che si cagavano addosso salire su un palco e ci salgono vedere le persone che sbocciano che crescono che migliorano e che sono in grado di fare questo con gli altri è il nostro contributo al mondo ma io mi sento pieno di gioia stasera vado a letto e ringrazio il nostro signore per aver sentito le parole di daniele ma se io sono consapevole che sono riuscito a impattare nella vita di daniele che ha impattato nella vostra vita che impatterete nella vita degli altri ma vi rendete conto che cosa possiamo fare pensate al moltiplicatore sempre pensate al moltiplicatore lo sapete noi possiamo contare quanti semi ci sono una mela ma non sapremo mai quante mele ci sono dentro quei semini per cui vi prego parliamo delle cose veramente importanti che chi stai diventando poi per qualcuno il network è una scuola impari cui e poi monetizzerei da un'altra parte benissimo per qualcuno diventa il modo per ottenere risultati lo scrivo anche nel mio libro che mi auguro abbiate network vincenti vi serve davvero non tutti con network diventano milionari anzi pochi come in tutte le attività economiche però tutti diventano migliori tutti diventano migliori questo noi dobbiamo dire e c'è una cosa che dovreste fare che ho sempre fatto che faccio ancora in realtà perché poi diventa automatico perché per percepire questo quando non guadagni soldi cavoli è normale che siccome hai bisogno lo fai per i soldi allora io vi prego di addormentarvi ogni sera facendo questo tipo di bilancio interiore ci mettete 30 secondi forse 20 il bilancio è questo guarda dove sei ricordati i doveri cerca di ricordarti di visualizzare doveri sei mesi fa un anno fa due anni fa guarda quante paure hai vinto quanti draghi hai vinto quante cose hai fatto come sei migliorato e quindi chiudendo gli occhi immagini dove sarai in questa timeline in prospettiva immagina dove sarai fra tre mesi fra sei mesi fra un anno perché questo quello che ci aspetta quello che conta davvero e ve lo dico con la benedizione di non dover pensare i soldi non conta quello che otterrete conta quello che diventate perché se diventate ottenete se ottenete non diventate vi giuro è un cazzo di casino